E' distinto e niente di più. Mi sono buttato in acqua, l'ho tirato fuori. Con le gambe qui l'ho appeggiato e lui ha rimesso. Un eroe per caso, Mirko Milanini, 35 anni operaio, che ha salvato un bimbo di appena 16 mesi, caduto nella piscina dell'agriturismo di Caprese Michelangelo Borgo al Faeta, nella Valtiberina a Retina. Erano le 10.45 circa quando la mamma, dipendente della struttura che stava lavorando in cucina, si è accorta che il piccolo non era con lei. Ha iniziato a cercarlo e l'ha trovato a pancia in giù nella pozza d'acqua piovana che si era accumulata sopra il telo che copriva la piscina. Le urla disperate della donna hanno attratto l'attenzione di un gruppo di operai che stavano lavorando in un campo attiguo. Mirko era con loro ed era l'unico che sapeva nuotare e non ci ha pensato due volte. Si è gettato ed ha portato il bimbo fuori dall'acqua. Era già cianotico, sì. Finché non ha fatto quel singhiozzo, insomma, un po' ti lascia lì. Però quel singhiozzo ha detto tanto. Dopo c'era il mizio, ha detto si muove, continua, continua, perché lo stavamo massaggiando. Distinto, sì. Ho fatto un massaggio cardiaco, penso, in qualche modo. Un po' inventato perché non l'avevo mai fatto. Intanto, dall'altro capo del telefono, ad aiutare Mirko a salvare questa piccola vita, gli operatori del 118. Il 118 ci avevano detto di metterlo su un fianco, se che lui ha iniziato a respirare sempre meglio. Dopo arrivata l'ambulanza, a tempo due minuti, c'era già, penso, il Pegaso in volo. Il Pegaso ha trasportato il piccolo all'ospedale Meyer di Firenze, dove è ricoverato in codice rosso, ma i suoi parametri vitali sono buoni.